Ben ritrovati per questo nuovo numero di incontro con, quest'oggi parliamo di sci, di impianti di Risalita, nostri crediti ospiti, Sergio Pra, Presidente di Alleghe Funivie, che ringrazio e saluto, buongiorno Pra, e Andrea D'Alfarra, responsabile marketing di Alleghe Funivie, grazie D'Alfarra, buongiorno. Grazie, grazie a voi. Allora, direi di partire, una stagione invernale che va in archivio, però un po' di storia, Alleghe Funivie, una società con quanti anni attualmente, qual è l'organico della società, quante persone lavorano negli impianti di Risalita di Alleghe? Allora, Alleghe Funivie nasce nel 79, con l'apertura dei primi impianti ad Alleghe, diciamo che il promotore principale dell'Alleghe Funivie è stato mio padre, Floriano, il quale ha raccolto nella località, adesioni da parte un po' di tutta la popolazione per far partire gli impianti. Nasce nel 79 e poi da lì Alleghe Funivie ha avuto una crescita molto, molto importante, di pari passo con il compensorio del Civetta, perché Alleghe Funivie è una delle quattro società del compensorio del Civetta. Diciamo che il nostro marchio principale è lo Schiccivetta, Alleghe Funivie è una società dello Schiccivetta e diciamo che Alleghe Funivie è una società, io dico magari la più importante per il fatturato, senza nulla a togliere dalle altre evidentemente, però tutte e quattro formano il Civetta che ha circa 80 km di piste, questo è per far capire di cosa stiamo parlando. È una società che ha avuto una crescita, come dicevo, ogni anno importante, con grande sviluppo, ci siamo sempre rinnovati negli impianti a fune, nelle piste, nell'innevamento, abbiamo sempre cercato di dare un servizio al cliente importante e diciamo che il cliente oggi viene ad Alleghe perché sa che trova dei servizi, dei servizi sia per gli impianti veloci, ma anche per le piste ben battute, per l'innevamento e ci siamo consolidati molto nella nostra clientela, per cui dal 1979 a oggi abbiamo avuto una crescita importante. Attualmente l'organico di Alleghe Funivie di quanti componenti conta? Noi abbiamo una parte di dipendenti fissi tutto l'anno che lavorano con noi, che fanno le manutenzioni fuori stagione, che sono una quindicina, però quando siamo in stagione abbiamo 50 dipendenti. Dal Farra, una stagione invernale che va in archivio, all'inizio c'erano molti interrogativi, molti punti di domanda, il fenomeno inflattivo, l'aumento degli ischi pass, il conflitto clagno, c'era un po' di preoccupazione, a stagione finita come sono andate le cose? Sono andate meglio delle aspettative, non nascondo che c'era una preoccupazione all'inizio stagione, però abbiamo invece avuto importanti conferme sia dal mercato interno che è soprattutto un ritorno preponderante degli stranieri e è stata una stagione premiante, per alcuni aspetti forse una delle migliori. In linea con le stagioni pre-Covid, avete dei dati ufficiali già disponibili oppure no? Si parla di un più? I dati ufficiali dovremmo attendere ancora un pochino per averli, però abbiamo delle proiezioni fatte durante l'arco della stagione e direi che siamo ritornati ai livelli pre-Covid paragonabili alla stagione 2019 che è stata una stagione sicuramente una delle migliori di sempre, soprattutto per quanto riguarda il plurigiornaliero, appunto dicevo quindi legato alle presenze del Berghiere o chi comunque trascorre più giorni da noi. Una flessione invece l'abbiamo notata sullo sciatore pendolare, cioè chi viene in giornata, soprattutto nella parte finale della stagione, nel mese di marzo, forse anche dovuto a comunque un innalzamento importante delle temperature e in pianura diciamo male la gente comincia già a pensare male. E certo, una diminuzione quindi dei giornalieri, imputabile nel clou della stagione, però secondo lei a quale aspetto? C'è un aspetto a cui si può imputare questa mancanza, questa carenza e fortunatamente però avete superito chiaramente con i pluri giornalieri come ci aveva detto? Diciamo che secondo me i fattori potrebbero essere due, uno è questo della componente meteorologica, abbiamo avuto comunque un marzo caratterizzato da bellissime giornate e temperature molto alte in pianura e quindi diciamo chi voleva sciare ha utilizzato i mesi più invernali quindi dicembre, gennaio invece dove abbiamo avuto un grande numero di presenze anche di pendolari e forse c'è anche una componente economica quindi non possiamo negare che l'inflazione abbia comunque giocato un ruolo in questo. Pra, 80 km di piste nello Schiccivetta, c'è in ipotesi di collegare lo Schiccivetta con Cortina D'Ampezzo, lei come valuta questa possibilità? Ma diciamo è una possibilità interessante per il Civetta e per tutto l'indotto del Civetta che poi noi andiamo a collegarci con il passo Giao se così fosse perché poi il passo Giao esistono già gli impianti di collegamento verso Cortina. È un collegamento che prevede due impianti di risalita e una pista di discesa. Ha una valenza invernale anche estiva specialmente sul passo Giao perché poi ci sarebbe un impianto che percorre tutto il passo Giao sul versante sinistro e ha una valenza che va anche a togliere molto il traffico dalle strade perché è un impianto diciamo sarebbe una gabinovia e questo è una delle cose che noi ci teniamo in particolare perché vorremmo anche lavorare un po' su tutta la parte green di tutta quanta questa ha una valenza per quello che concerne le bike, le mountain bike perché potremmo collegarci con Cortina. Diventa anche interessante perché voi sapete che l'inverno quando ci sono precipitazioni il passo Giao viene chiuso perché non è servito dai paraslavine su tutto il percorso per cui al di là adesso di tutta la parte invernale che per noi è strategica un collegamento con Cortina però anche delle peculiarità interessanti sulla forma del togliere le macchine e anche quello che vi diceva del passo e anche per creare un collegamento per creare nuovi percorsi con le mountain bike tra Civitta e Cortina. Tutto questo messo insieme penso che ne valga la pena. Si tratta di investimenti importanti, ci ha parlato di due nuovi impianti di risalita, in questo senso stiate dialogando con l'ente pubblico per questi investimenti? Noi abbiamo bisogno di un supporto determinante dall'ente pubblico perché le nostre società sono piccole società, non siamo in grado noi di sostenere in toto questi investimenti, però ne avevamo già parlato con la regione dove c'era la volontà da parte del presidente Zaia di sostenere questo anche nel contesto delle Olimpiadi del 2026, però pensiamo che questo collegamento potrebbe dare una svolta determinante nei servizi del Civitta verso la clientela, anche in funzione della concorrenza che abbiamo un po' sopra di noi dove c'è già il collegamento della pusteria verso l'Austria e verso le zone nostre del Belunese, per non parlare poi di altri progetti che ci sono nella Val Gardena, nella Val di Fassa, cioè tutti si stanno un po' riorganizzando per dare un'alternativa anche al giro del Sella perché la clientela vuole avere alternative e questo collegamento potrebbe essere interessante per per far sì che ci sia una novità nell'ambito dello sci invernale, poi diventerebbe il più grande compensorio del Veneto a livello di super ski, poi in futuro magari ci potrà anche collegare con l'Alta Badia, però già il giro della Grande Guerra prenderebbe un grande impulso perché si eviterebbe il trasferimento del Pulma sul Passo Giao, insomma le premesse sono ottimi. Ecco è un inverno caratterizzato da scarse precipitazioni nevose, voi avete sopperito anche grazie all'innevamento artificiale e dalle alte temperature, ragionando a medio termine avete fatto una riflessione su questo fatto che le piste da sci oltre i 2000 metri, sotto dei 2000 metri potrebbero essere a rischio per tutti questi fattori, scarsità di neve, precipitazioni e temperature elevate. Sì, guarda io posso darti un dato, noi abbiamo la pista di rientro ad Alleghe, Alleghe è a 980 metri, la pista di rientro è aperta ancora adesso, faccio per dire che bisogna capire l'esposizione delle piste, non possiamo far tutto quanto dell'erba a un fascio come si dice, capisco se va in zone verso la pianura allora l'altitudine, ma nelle zone nostre in un contesto diciamo di versanti al nord o dove c'è un innevamento artificiale importante, questo problema non c'è, perché quando fai la neve artificiale, lo sta a dimostrare adesso, noi arriviamo fino anche a quote, dico sui 1000 metri tranquillamente insomma, per cui insomma io valuterai bene di cosa stiamo parlando, non è che si dice che dai 2000 metri in su è tutto quello che sotto si deve fermare, non è così e lo sta a dimostrare quest'anno che non è così, perché abbiamo le piste che arrivano in fondo valle e che sono ancora tranquillamente percorribili. Noi abbiamo però in programma di fare un bacino di innevamento in collaborazione con il comune di Alleghe, che ci sarà un bando pubblico privato dove parteciperemo sicuramente all'asta come società per fare un bacino di innevamento di 100.000 metri cubi, che questo qua ci dà ulteriore forza nell'innevarci nei momenti di inizio stagione dove ci sarà il freddo e dove avremo l'accumulo dell'acqua che faremo durante l'estate per poter produrre la neve, per cui stiamo già anticipando queste problematiche. Sì, certo. Olimpiadi Milano-Portina 2026, Pra, secondo lei Oschi Civetta può avere delle ricadute positive da questo grande evento ed è ipotizzabile eventualmente il nuovo collegamento di cui si parlava prima in vista di questo appuntamento oppure no, si parlerà degli anni più avanti? No, noi ci teniamo a fare il collegamento per le Olimpiadi, perché potrebbe anche servire a Cortina per gli atleti che faranno le gare a Cortina, per avere il Civetta come supporto per allenamenti e tutto l'indotto delle Olimpiadi. Sicuramente avremo una ricaduta sulle nostre zone, perché noi ci sentiamo la periferia di Cortina e ci teniamo a esserlo, per cui ci contiamo molto su questo evento delle Olimpiadi. Speriamo che tutto questo vada a buon fine. Dal Farra, stagione invernale in archivio, si pensa già a quella estiva, avete già delle date di apertura per quanto riguarda la stagione estiva e su cosa punterà alle che funevie? Su quali settori? Il trekking, la bicicletta oppure anche altre alternative, qualche cosa di nuovo? Allora le impianti, adesso chiuderemo la stagione invernale domenica 2 aprile e riapriremo per l'estate sabato 17 giugno, una stagione che si porterà fino alla metà di settembre circa. Diciamo che le impianti risalite ad Alleghe, quindi la possibilità di avere un impianto di arrocamento già direttamente dal paese fino ai piani di Pezzè, offre questo primo ingresso ai piani di Pezzè che hanno una vocazione particolarmente orientata alla famiglia con tutta una serie di servizi dedicati alla famiglia come l'Allifarm, un parco tematico per i più piccoli ma anche per i più grandi perché ha una serie di percorsi sensoriali e delle schede informative che introducono i nostri ospiti agli elementi della flora e della fauna locale. Sempre per i più piccoli ai piani di Pezzè abbiamo un parco avventura molto bello che si sviluppa sugli alberi poco distante dai piani di Pezzè di fronte al ristoro Fontana Bona e una grandissima area picnic con i servizi, la possibilità comunque di fare anche un barbecue in quota o passare semplicemente una giornata in montagna. Abbiamo una quota non troppo elevata, 1500 metri, questo grande, chiamiamolo alto piano che permette comunque di avere uno spazio aperto molto sicuro per i bambini. Da lì invece di pieni pezzi parte un secondo impianto, una cabinovia che porta a Col dei Baldi, quindi a 2000 metri, da cui invece è possibile accedere a tutti i servizi più, alle attività più action diciamo. Quindi sicuramente la mountain bike con dei percorsi diciamo su strade silvopastorali ben segnalati, una serie di percorsi che collegano la Val di Zoldo con Selva di Cadore ed Alleghe e anche un biglietto dedicato che permette l'uso promiscuo appunto degli impianti a fune e della bicicletta assistita, diciamo questo ha anche permesso di aprire un mercato anche familiare, diciamo quindi non prettamente per chi fa un uso semiprofessionale della bicicletta ma diventano dei percorsi adatti un pochino a tutti. Oppure i più grandi classici, noi chiaramente siamo ai piedi del Monte Civetta e quindi le possibilità invece per il trekking, l'hiking, la rampicata o la ferrata degli alleghesi è sicuramente uno dei nostri punti di forza, quindi la possibilità di accedere a Civetta, una gita classica al lago Coldai piuttosto che al rifugio Tissi per chi vuole fare un po' più di strada e per i più allenati la bellissima Val Civetta che diciamo ripercorre un po' quello che è il percorso della Transcivetta. In vista della stagione estiva poi parleremo anche degli eventi che avrete in calendario per l'estate. Un'ultima domanda a Pra, quindi periodi di chiusura degli impianti sempre più corti, quindi allungare le aperture degli impianti, i mesi di apertura, da una mano anche all'indotto alberghiero, questo in virtù anche della difficoltà di riperimento del personale nelle strutture alberghieri ricettive? Sicuramente noi, il programma nostro ha sempre stato quello di aprire gli impianti i primi giorni di dicembre e poi chiuderlo a fine marzo, i primi di aprile, il prossimo anno abbiamo Pasqua anche molto favorevole e andremo a Pasqua. Sicuramente questo darà anche per dare l'opportunità agli alberghi di assumere il personale per una stagione lunga perché adesso qui il problema del personale negli alberghi è un problema che dobbiamo dare la possibilità almeno di fare un certo periodo di lavoro e questo serve per portarli da noi. Ma le nostre stagioni sono sempre queste, insomma, i primi di dicembre arriviamo la prima domenica di aprile oppure Pasqua, il prossimo anno avremo Pasqua molto buona per cui arriveremo a Pasqua. Bene, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, ringraziamo Andrea D'Alfarra, direttore marketing alle che fornivie, grazie D'Alfarra. Grazie, grazie a voi. Grazie anche al Presidente Sergio Praga, grazie per essere intervenuto e a voi tutti per il gentile ascolto alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.